Io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti, bisogna andare molto cauti, perché? 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 I crauti sono quella cosa che si schiaffano dentro ai barili. Poi si vendono a chi? Quattro etto, mezzo etto a piazzetti. Non proprio non lo sapevo che la pistola era carica. Certo, l'avessi saputo. Non avrei fatto... Ma adesso che il guaio è fatto, portate via il morto. Sì, 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 starò più accorto. E non farò più bub. Ricordo una sera a Varasse, che venivo giù da Savona. Non era Varasse. E non era nemmeno Savona. E non era nemmeno quella volta. Grazie. Grazie. Grazie.